Giovani registi napoletani crescono. Non solo i celebrati sorrentino, capoano o corsicato, potrebbe presto imporsi al grande pubblico anche il 45enne editore del greco, Ruggero Capuccio. Il regista partenopeo iniziato da circa un mese, il 29 marzo, a Roma, le riprese di Rienva, con Roberto Erlitska, Chiara Muti e Lello Arena. Allo spessore del gruppo attoriale fa eco la robustezza del cast tecnico, con il premio Oscar Gabriella Pescucci alla supervisione dei costumi, Paolo Abizzarri a quella scenografica ed Esmeralda Calabria al montaggio, mentre le musiche sono state affidate a Paolo Vivaldi e la fotografia a Giovanni Ragone. Tratto dall'edipo a Colono, scritto allo stesso regista, il progetto cinematografico racconta la singolare avventura umana di un anziano professore universitario, assediato dai fantasmi e dalla fascinazione dell'antica Grecia. E marginato e visionario, il protagonista inizia un vagabondaggio tra stade di campagna e grandi città metropolitane, stazioni ferroviarie e aree archeologiche del Cilento, alla continua ricerca di un'ipotetica Colono, che nel suo desiderio si configura come luogo definitivo di pace e salvezza. Nella strada del professor Alessandro Tommasi si specchia la tragedia moderna delle minoranze del mondo, soffocate da strutture comunicative false e massificanti. Il cast attoriale, composto anche da Claudio Di Palma, Ciro Damiano, Gia Martire, Franca Abate Giovanni e altri 70 interpreti, sarà impegnato per quattro settimane in ambientazioni del centro-sud Italia, tra cui anche alcune location campane, le antiche mura di Pestum, le stazioni ferroviarie di Agropoli e Salerno, l'archivio di Stato del Comune di Salerno e l'hotello Osbaia di Vetri sul Mare. Rienva infine l'accessorio importante scopo di divulgazione culturale e del patrimonio artistico ambientale di Salerno e del Parco Nazionale del Cilento.